Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Noi siamo Cecilia Delli di Fessondo d'Italia e oggi vogliamo inaugurare insieme una nuova sezione del nostro canale in cui inseriremo tante news sul mondo a quattro zampe quindi restate con noi! Oggi vi parlerò di Dr. Bao e Dr. Miao, la mutua per cani e gatti al costo di 120 euro all'anno e in sconto del 50% per i proprietari di animali e senti da ticket Dal primo vaccino alla cremazione, la mutua per cani e gatti darà assistenza sanitaria ai nostri amici animali e quindi farà anche risparmiare all'Italia 4,5 milioni di euro all'anno Si chiama Dr. Bao e Dr. Miao ed è un sistema privato di assistenza per cani e gatti lanciato dalla mutua italiana, MIAS in partnership con Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo e Europe Assistance Questo risulta essere un importantissimo passo dato che il 55% degli italiani ha con sé a casa un animale domestico quindi con questo nuovo sistema si eviteranno gli abbandoni e si incentiveranno le adozioni di animali randaggi Tra i servizi offerti dalla mutua troviamo per sempre ovvero un'assistenza dopo il decesso dell'animale quindi la sistemazione del corpo dell'animale in una struttura qualificata delle guardie ecozoo o file di fare ambiente Sacrificio necessario invece garantisce la cremazione in modo etico Inoltre la mutua coprirà anche le spese di ricerca nel caso che dovesse smarire il vostro animale Dr. Bao e Dr. Miao partirà a fine mese e potrete semplicemente iscrivervi online tramite il loro sito web che vi metterò in descrizione tramite la pagina facebook oppure nei pet shop e anche tramite le guardie ecozoo o file di Fare Ambiente Il loro sito web ve lo dico comunque anche qui è drbao-dottormiao.it Non dimenticate di zamparci un like di iscrivervi al nostro canale e poi di condividere questo video sui social per informare tutti i proprietari di animali domestici Al prossimo video, ciao a tutti!